Sabato sera alle 19.45, atterrata a Comiso, per la prima volta allo scalo Piola Torre, il volo della Brussel Airlines proveniente allo scalo della capitale belga. L'atterraggio è stato salutato dal tradizionale Water Cannon, organizzato da Soaco, con la collaborazione dei Vigili del Fogo. A bordo vieron 122 passeggeri in arrivo in Sicilia, mentre 27 erano quelli in partenza dal Piola Torre. Questo volo da e per Brussel è in programma quindi ogni sabato, fino al 30 settembre, atterraggio alle 19.45 appunto al ripartenzo alle 20.30. Si tratta di un volo in modalità Part Charter, cioè con una quota di passeggeri, che ha acquistato pacchetti di soggiorno in Sicilia promossi dal tour operator Thomas Cook, mentre un'altra quota è costituita da viaggiatori che hanno acquistato il volo per la Sicilia in maniera autonoma. Per l'estate 2017 quindi questa compagnia serve come è noto anche la rotta da e per Birmingham e lo stesso con lo scalo polacco di Catois. Grazie a tutti.